segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuto alessandro barbano giornalista saggista il suo ultimo saggio l'inganno antimafia usi e soprusi dei professionisti del bene per marsile un libro che ha fatto veramente discutere parecchio qual è l'inganno di cui parla nel libro barbano è l'inganno politico di una macchina costruita per combattere la mafia che nel tempo però si è trasformata è diventata una macchina dell'emergenza che finisce anche soprattutto per assistere se stessa e quindi un apparato corporativo parassitario che in qualche modo ha tradito la missione politica che il paese le aveva assegnato in un paese dove è possibile essere assolti perché il fatto non sussiste e confiscati cioè lo stato si prende tutti i tuoi beni con una legislazione speciale che si fa fatica a spiegare che esiste soltanto in italia e rappresenta un insulto alla democrazia liberale e mi pare che questo sia stato anche censurato dalla corte europea dalla corte costituzionale ma non ha prodotto un ritorno allo stato di diritto molto critico il suo testo anche nei confronti della magistratura beh voglio dire noi ci siamo abituati all'idea che si possa assistere a retate cicliche nel mezzogiorno dove si arrestano 200 persone e se ne condannano 30 20 talvolta 10 se tutto questo è fisiologico è evidente che noi stiamo curando una malattia con un rimedio che ha degli effetti collaterali molto grandi per la società un impatto enorme pensate al volume delle confischie che sono anche un unicum nazionale e che intervengono non solo dei mafiosi nei confronti dei mafiosi per i quali sono state pensate immaginate ma oggi sono un fenomeno che ha costruito una manomorta pubblica di spaventose dimensioni che poi viene svuotata delle sue risorse e finisce per fallire quindi lo stato ha tradito anche qui la funzione di prendere questi beni per rimetterli in un circuito legale e questo è un tema totalmente sottaciuto e sottovalutato nel dibattito pubblico lei scrive nel suo libro a volte lo stato atteso alle vittime di mafia la mano destra per incoraggiarle a denunciare e poi con la sinistra le ha messe all'indice e in che modo il caso dell'imprenditore riccardo greco per esempio di gela che è stato indotto e convinto a denunciare gli estortori cui pagava il pizzo li ha fatti a condannare a 134 anni e poi è stato però perseguito per anni dallo stato come complice della mafia ed è stato anche assolto ma una interdittiva gli ha tolto tutto anche alla fiducia e alla speranza alla fine si è tolto la vita questo è il destino di moltissime vittime della mafia perché l'idea di questo diciamo modello speciale di contrasto alla criminalità è che anche le vittime della mafia in quanto pagatori del pizzo debbano essere spogliati dei loro beni per di fatto fare terra bruciata attorno alle fonti di approvvigionamento della mafia è accaduto proprio l'altro ieri in calabria degli imprenditori che vivono da tre anni sotto scorta e che hanno denunciato l'andranghe da cui pagava il pizzo sono stati confiscati e sequestrati tutti i loro beni 45 milioni purtroppo questa è una prassi che continua e che non ha nessun freno nonostante sia contrario a qualunque principio di ragionevolezza è una distorsione di una macchina dell'emergenza che oggi assiste soprattutto se stessa le chiedo un flash le contesta che si parli di mafie e non di mafia perché perché la legislazione speciale fatta di appunto confischie sequestri senza giudicato di reati la cui la cui fatti specie sono slabbrate come il concorso esterno di rimedi speciali di 41 bis di ergasto lo stativo è stata pensata per combattere un'organizzazione piramidale piantata nel cuore dello stato che nel 1990 faceva 800 omicidi oggi quell'organizzazione non c'è le mafie sono altro e noi non le conosciamo si possono sconfiggere con gli strumenti ordinari del diritto come dimostra la cattura di Matteo Messina Denaro che è giunto in carcere con un'indagine ordinaria fatta per bene condotta con mezzi ordinari quindi l'apparato diciamo eccezionale non serve alla lotta alle mafie che sono altro serve purtroppo a eternare una sistema dell'emergenza che garantisce potere ma garantisce anche molte occasioni di lucro a tutta una struttura corporativa che sta attorno fatta per esempio di professionisti che gestiscono i beni e anche di una gestione affidata al volontariato che spesso tradisce le funzioni per le quali sono stati quei beni assegnati. L'inganno Alessandro Barbano grazie per essere stato con noi la linea va